Clarissa parla con Katia Ricciarelli e si trovano davanti l'argomento permanenza nella casa. Clarissa dice a Katia se dovessero prolungare l'edizione tu rimani vero? Katia facendo di no Clarissa lo richiede. Non rimani. Katia le conferma il no poi la telecamera stacca l'inquadratura e passa ad altro. Katia Gia sa tutto ed ha firmato fino a dicembre data in cui uscirà senza firmare il nuovo contratto. Canale YouTube Fabio Pecce.